Ed ora anche coi piedi vince il 7-20 la canottieri Monate! Che spettacolo, grande gioia di tutta la tifoseria con Sara Crivello! Foto ufficiali... Sara ci vuoi raccontare un po' com'è stata questa tua bella gara? All'inizio è stata una lotta con l'animo del 5, però verso i 500 metri sono riuscita a superarla. Sei riuscita a superarla? Sei andata davanti? Ma li hai sentiti questi del tifo? Sì! Oh ragazzi li hanno sentito eh! Facevate le onde sull'acqua, facevate le onde! Non posso ripetela! Noi volevamo ringraziare veramente di cuore tutti, Loris, Gaetano, tutto lo staff della Monate, una tifoseria veramente molto bella. Diciamo insieme Forza Monate? Forza? Monate! Grazie!